Sindaco, il Ministero dell'Interno ha parlato di ricognizione, ha detto che non esiste una specifica volontà di trasformare Cività Vecchia in un luogo di accoglienza a migranti, ma voi quando avete avuto l'incontro avete avuto l'impressione che ci fosse qualcosa di più che una voglia di capire qual era la vostra apertura a questo problema? Gli incontri sono stati due, il primo in prefettura, l'altro ieri e ieri il sopralluogo al porto, a me sembrava più di una semplice ricognizione, però le posizioni del Ministero sono un po' un diva che capiremo nei prossimi giorni, suppongo, e magari se potessi chiederlo direttamente al Ministro sarebbe una cosa opportuna a parer mio. Voi avete detto di no, è rimasto fermo in questa sua posizione? Sì, perché ripeto, questa è una città di mare e di porto, l'accoglienza la vuole fare, ma la vuole fare in maniera strutturata, noi abbiamo aderito al progetto Sprar e lo faremo formalmente tra settembre e ottobre emanando l'apposito bando, quindi va bene l'accoglienza, un'accoglienza che sia programmata e strutturata, quella che ci stanno non proponendo ma, come dire, prospettando, rischia di essere qualcosa di difficile gestione, anche sia per la città, per i problemi legati alla sanità, insofferenza, risorse idriche, servizi sociali che devono farsi carico di un ulteriore aggravio di lavoro e quant'altro. Quindi, insomma, rischia di essere una cosa di difficile gestione, anche stando all'autorità portuale per quanto riguarda l'operatività del porto. Però condividere i problemi significa renderli, diciamo, meno pesanti per tutti quanti. Non avete paura che questa vostra decisione vi faccia passare per egoisti? Ma no, ripeto, nel momento in cui noi abbiamo già formalmente fatto atti che ci portano verso un programma di accoglienza strutturato, io penso che nessuno ci possa muovere un'accusa di questo tipo. Noi non stiamo dicendo non all'accoglienza, sia chiaro. Noi stiamo dicendo che l'accoglienza fatta nell'arco di 72 ore è un'accoglienza problematica ed è un'accoglienza, secondo me, neanche decorosa per chi arriva e deve essere giustamente accolto da questo Paese.